Diversi modi di rappresentare il Natale con creazioni di ogni parte del mondo. E' uno spaccato di cultura e sensibilità che abbraccia tutti i continenti, la mostra sui presepi allestita da un'insegnante di religione. Lei è la giolese Tania Tallarita. L'esposizione può essere visitata gratuitamente nei locali del chiosco di Ruben, al porto rifugio. Ho avuto sempre questa passione per la religione in sé per sé. Da piccola collezionavo dei santini sacri, poi mi sono messa a collezionare dei presepi. Ne ho di diverse nazionalità, di diversi continenti, alcuni abbastanza ricercati. Uno di quelli che mi piace moltissimo è quello Eschimese. Infatti ho realizzato anche io la struttura perché è uno dei più belli per me. E perché proprio quello Eschimese? Cosa c'è di bello rispetto agli altri? Perché è uno dei più ricercati e non è facilmente trovabile sul mercato. Quanto tempo impieghi per realizzare questa bella mostra? Un paio di giorni, anche una settimana. E poi conservi tutto per l'anno prossimo? Sì, ogni anno faccio questa bella mostra, sia a casa o ora in questo locale. E c'è un impegno che tu assumi con i tuoi amici, con i tuoi parenti, perché ogni volta vanno all'estero o anche in Italia devono portarti un presepe. Sì, da ognuno che parte chiedo di portarmi questo presepe. E molti me li hanno regalati, oltre a comprarli.